Buongiorno e ben ritrovati sulla Nuova TV, questo è il nostro spazio dedicato alla rassegna stampa. Andremo a vedere insieme quali sono le notizie di oggi dalle prime pagine dei giornali locali e nazionali che vedete alle mie spalle. La nostra prima notizia di oggi è di cronaca, non si arrestano i casi di maltrattamento e violenza sulle donne. Purtroppo anche ieri nella giornata internazionale dedicata al contrasto di questo fenomeno, altri due episodi nel Vulture Melfese e a Matera sentiamo Celestino Benedetto. Da oltre un anno era solito aggredire sia verbalmente che fisicamente la compagna, che in alcune occasioni, a causa della gravità delle lesioni subite, era stata costretta a recarsi al pronto soccorso dell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Nonostante tutto, lei continuava a proteggerlo dicendo di essere caduta per paura di ulteriori ritorsioni. Si tratta dell'ennesimo caso di violenza di genere in ambito domestico che ha fatto scattare le manette proprio in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. I carabinieri di Matera hanno infatti arrestato l'uomo, un materano di 34 anni, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate da futili motivi. La donna alla fine è riuscita a trovare il coraggio di denunciare, raccontando una convivenza caratterizzata da violenze sia psicologiche che fisiche. L'istinto sessuale, alla base di un tentativo di abuso, ha portato invece a far scattare le manette ai polsi di un 45enne residente nell'area del Vulture, arrestato dai carabinieri di Melfi con le accuse di violenza sessuale e violazione di domicilio. L'uomo, una tarda sera, agli inizi di novembre, si era introdotto nell'abitazione di una giovane donna con il chiaro intento di avere un rapporto sessuale con lei. Si è fermato soltanto quando ha ricevuto una telefonata dalla moglie. La ragazza rimasta sola ha contattato un'educatrice di sua conoscenza che le ha consigliato di denunciare i carabinieri. È fondamentale infatti denunciare e chiedere aiuto alle forze dell'ordine. Ricordiamo che esiste un numero antiviolenza 1522 istituito dal Ministero per le Pari Opportunità proprio per permettere alle donne vittime di violenza di ricevere una prima assistenza. 0971 55 551 è invece il numero diretto per parlare con le operatrici di telefono donna. E dopo il nostro servizio di apertura siamo pronti per partire con la rassegna stampa. Cominciamo come sempre dalla prima pagina della Nuova del Sud. Oggi in edicola l'apertura è dedicata all'emergenza coronavirus. Giù contagi e ricoveri altrove quarta ondata. I dati diffusi dall'ultimo report della Fondazione Gimbe segnalano un miglioramento degli indicatori Covid rispetto alla settimana scorsa soltanto in Basilicata. e ora volano anche le terze dosi. Andiamo nella falsa apertura. La cronaca lo abbiamo sentito. Entra in casa di una donna e prova a violentarla. Un 45enne in manette. È accaduto nel vulture. La giovane è salvata dalla telefonata della moglie. E poi Basilicata e Calabria si mobilitano per dire no all'impianto di San Sago. Cittadini, studenti e sindaci in marcia con l'Egambiente. In realtà la manifestazione era prevista per la giornata di oggi ma a causa delle previsioni meteo che indicano cattivo tempo la manifestazione è stata rinviata. E ancora sulla Nuova del Sud di oggi vi parliamo del processo sullo sversamento al centro olio di Vigiani di Vigiano dell'incuria sconsiderata di Eni se ne occupi la Procura il WWF parte civile nel processo per disastro ambientale e così da 20 anni. Andiamo in basso al rischio salute e posti di lavoro SOS dei laboratori di analisi privati Cicchetti dell'Aninsap dice penalizzati dalle tariffe e poi Team Basilicata c'è una vertenza che mette in gioco il futuro occupazionale di circa mille dipendenti lucani i sindacati chiedono che intervenga Bardi e poi il calcio a 5 di Serie A il CMB Matera cerca l'antitolo alla crisi Biancazzurri stasera in campo contro la fel di Eboli andiamo alle pagine interne a pagina 5 troviamo l'approfondimento sull'emergenza coronavirus contagi e ricoveri in frenata casi e tasso di ospedalizzazione in calo rispetto alla settimana precedente soltanto in Basilicata a dirlo sono gli ultimi dati diffusi da Gimbe intanto ricoverato nelle ultime ore in terapia intensiva al San Carlo un 66enne e qui nella pagina troviamo le tabelle con i principali indicatori esaminati da Gimbe e una foto su uno screening effettuato ieri a Miglionico a pagina 4 parliamo ancora di sanità dal Poval d'Agri un milione di euro ma il sindaco chiede risposte alla regione il sindaco in questione è il primo cittadino di Stigliano Francesco Micucci in quanto l'assessore regionale alla salute Rocco Leone ha proposto per Stigliano un presidio con 40 posti letto ma Micucci chiede il pronto soccorso dopo quanto accaduto nei giorni scorsi quando un 72enne è deceduto per un infarto a causa dell'arrivo in ritardo dell'ambulanza a pagina 6 l'SOS dei laboratori analisi pesa il ribasso delle tariffe a rischio salute e posti di lavoro l'allarme arriva dall'ANISAP il ribasso di tariffa mediamente del 37% che si concretizza con il tariffario Balduzzi a cui si aggiunge un'ulteriore riduzione del 12% non è sostenibile a parlare è Roberto Cicchetti presidente ANISAP che dice nel periodo pandemico le strutture hanno aumentato la forza lavoro dando risposte concrete alle esigenze di salute dei cittadini lucani ieri sono state tante le iniziative promosse dalle istituzioni e dalle forze dell'ordine per promuovere il rispetto della donna a potenza presentato Mascarilla 19 un progetto cinematografico per avvicinare i giovani al tema ce ne parla Isabella D'Andrea l'iniziativa prende spunto da un codice adottato in Spagna nelle farmacie Mascarilla 19 un SOS segreto per permettere alle donne vittime di abusi e maltrattamenti di chiedere aiuto ed attivare così un protocollo antiviolenza in un periodo come quello del lockdown in cui siamo stati tutti chiusi in casa una casa che in queste situazioni si è trasformata in una prigione per quante si sono ritrovate a convivere tra le quattro mura domestiche con il proprio carnefice Mascarilla 19 è il titolo di un progetto presentato al Cinema Due Torri di Potenza dalla commissione regionale Pari Opportunità in collaborazione con la fondazione In Between Art Film per sensibilizzare sul tema della violenza di genere attraverso il cinema un progetto culturale e formativo che prende spunto dalla campagna lanciata dal premier spagnolo Sanchez otto registi europei si sono cimentati nella realizzazione di otto corti realizzati con tecniche differenti sul tema in programma la proiezione di otto film che sarà prolungata sempre con ingresso gratuito dal 26 novembre al primo dicembre Il mio auspicio è che questi corto siano visti soprattutto da studenti giovani perché sicuramente è da lì che va cambiata l'impostazione del rapporto fra i generi vanno valorizzate le differenze va evidenziato il rispetto che la cui mancanza poi è una delle cause di questa cultura patriarcale che porta al femminicidio e alla violenza sulle donne infine Perretti lancia un messaggio destinato a donne e uomini agli uomini è quello del rispetto sicuramente è la parola del rispetto le donne devono avere grande fiducia in se stesse e non aver paura di denunciare non aver paura di cambiare soprattutto riprendiamo la nostra rassegna stampa da pagina 2 della nuova del sud dove troviamo il punto di vista di Nino Grasso andiamo a leggere il titolo i moralizzatori di ieri e le scorciatoie istituzionali in regione per mano del Formez PA sotto accusa nel pezzo di Nino Grasso i rapporti di consulenza sottoscritti con il centro sudi della pubblica amministrazione da persone riconducibili all'attuale assessore regionale dell'ambiente Gianni Rosa lo stesso dice Nino Grasso che in passato tuonava dai banchi dell'opposizione contro i metodi clientelari della giunta Pittella e per maggiori approfondimenti vi invito a leggere il pezzo di Nino Grasso sulla nuova di oggi andiamo avanti a pagina 17 vi parliamo c'è un approfondimento di Mariolina Notar Giacomo sullo sversamento di petrolio al centro olio Eni di Vigiano plausibile un incidente ma del modo di fare sconsiderato di Eni se ne deve occupare la procura a parlare Luigi Agresti referente del VUF nazionale anche il VUF è stato ammesso dal GUP tra le parti civili nel processo per disastro ambientale riconducibile allo sversamento di greggio al centro olio della Valdagri il referente nazionale Agresti dice da 20 anni che denunciamo con esposte osservazioni nei procedimenti e il VUF chiede al governo lucano un coinvolgimento attivo delle associazioni ambientaliste nella redazione dei processi che porteranno alla transizione energetica a pagina 9 la cronaca sindacale con l'avvertenza team ci sono in gioco mille dipendenti lucani la Basilicata ha già perso centinaia di addetti lunedì presidio davanti la prefettura di potenza il modo in cui verrà realizzata la rete di nuova generazione dicono i sindacati non sarà ininfluente per il futuro di una regione poco popolata nella stessa pagina si parla di assistenti sociali amministrativi e psicologi a rischio nei comuni perché il 31 dicembre scadono i contratti la UIL FPL dice molti servizi a rischio in basso un'altra vertenza la Ferro Sud la UILM lancia l'allarme la regione vigili sulla procedura d'asta e ha preso il via ieri il congresso della CISL lucana una due giorni dedicata al futuro della Basilicata che si è aperta con la federazione dei pensionati FNP e i temi che riguardano più da vicino anziani e persone fragili spazio anche alla gestione dei fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza i lavori proseguiranno per tutta la giornata di oggi sentiamo Rocco Romanelli la riforma delle pensioni fisco non autosufficienza riordino del sistema sociosanitario regionale questi temi principali oggetti del congresso della Cisla Basilicata che quest'anno coincide con la vigilia della giornata di mobilitazione indetta dalle segreterie regionali di CGL Cisle Will prevista per il 4 dicembre in piazza Don Bosco a Potenza per rivendicare un cambio di passo della politica del governo nazionale sul lavoro fisco e pensioni ad aprire i battenti la federazione dei pensionati FNP al suo undicesimo congresso regionale i lavori sono stati aperti dalla relazione del segretario generale uscente Enzo Zuardi noi abbiamo posto all'attenzione dell'aggiunta ma non solo dell'aggiunta ma anche ai comuni capofila per dire che dobbiamo dare ci dobbiamo dare delle mosse nel senso che dobbiamo mettere in atto tutte quelle iniziative che consentono alle persone anziane e dico le persone anziane perché poi anche con la pandemia sono risultate le persone più fragili di questa società tra gli interventi anche quello del segretario generale della FNP CISL nazionale Piero Ragazzini che ha fatto un focus sul tema delle pensioni primo tema una legge sulla non autosufficienza seconda questione bisogna rivalutare il valore delle pensioni attraverso due iniziative una rivalutare la quattordicesima l'altra fare una politica fiscale che veda anche per i pensionati oltre che per i lavoratori attivi un riconoscimento con delle aliquote più europee di quelle che noi oggi paghiamo nel nostro paese infine Ragazzini lancia un monito alle istituzioni in vista della gestione delle risorse del PNRR io credo e lo dico dal pensionato che il primo problema che il nostro paese deve affrontare è quello del lavoro per mantenere i giovani sul territorio per ripopolare il territorio per dare una speranza a questo paese quindi noi crediamo che la priorità del PNRR sia quella di creare le condizioni per un nuovo modello di sviluppo che dia un'occupazione un'occupazione stabile soprattutto un'occupazione stabile non precaria come è avvenuto purtroppo in questi anni e riprendiamo la nostra rassegna stampa da pagina 14 della Nuova del Sud dove si parla del no all'impianto di San Sago cittadini, studenti e sindaci in marcia per l'ambiente ve l'ho detto prima la manifestazione è stata rinviata a causa del maltempo sicuramente si terrà nei prossimi giorni migliaia di piedi di braccia e di voci per chiedere la delocalizzazione del sito per il trattamento di rifiuti a pochi metri dalla fiume Noce al confine tra Calabria e Basilicata a laurea invece torna la festa di liberità promossa dal sindacato dei pensionati della CGL l'iniziativa in presenza dopo lo stop causato dal Covid nella stessa pagina vi parliamo di Slow Food Basilicata a Palazzo Fortunato oggi il taglio del nastro della nuova sede a Rionero e poi Villa Nitti di Maratea protagonista dal primo festival delle espressioni culturali le notizie che riguardano Matera città fondazione etica promuove Matera i fondi per il 2019 ha saputo spenderli bene livelli di spese in conto capitale superiore al 25% nella città dei Sassi risultato da ricondurre agli investimenti per il titolo di capitale europea della cultura e poi la cronaca latitante da 7 anni intercettata sulla strada statale 7 la polizia stradale arresta una 59enne nella stessa pagina il camper della polizia in piazza Vittorio Veneto iniziativa ieri in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne informazione e assistenza in piazza e siamo allo sport parliamo di calcio a 5 CMB Matera una crisi da scacciare un solo punto conquistato dai biancazzurri nelle ultime tre gare di campionato la formazione di coach uniti in campo stasera al Palasele alle 20.30 contro la Feldi Eboli nell'anticipo della decima giornata e poi Colucci presente nella gabbia dorata stiamo parlando di arti marziali l'atleta Lucano parteciperà alla manifestazione in programma Mazzara del Vallo e Monaco dice per noi sarà un onore l'evento in programma il 4 dicembre e dallo sport passiamo alle previsioni del tempo ben trovati in un aggiornamento con le previsioni di Trabi Meteo situazione per la giornata di venerdì sull'Italia sede di zone di bassa pressione di fatti possiamo osservare come impulsi nordatlantici raggiungeranno con agilità l'Europa centro-occidentale ma anche il nostro paese nel dettaglio possiamo vedere di fatti come le correnti saranno disposte da ovest nord-ovest in quota piovaschi temporali sulla parte tirrenica ma nella seconda parte del giorno fenomeni che sconfineranno anche sulle Adriatiche soprattutto in serata Lombardia e nord-est rischio precipitazioni con neve in montagna sulle Alpi ecco in sintesi la mappa dell'Italia un parziale miglioramento in mattinata in pianura padana e sulle Adriatiche mentre ancora piovaschi temporali sulle Tirreniche poi verso il terzo pomeriggio la serata qualche piovasco sul medio Adriatico ma soprattutto in tarda serata nuove piogge Lombardia Emilia-Romagna Venezia con neve sulle Alpi a quota di media montagna dettagli maggiori li trovate scaricando l'app di Trabi Meteo Previsioni per oggi al mattino sulle coste bel tempo con cieli quasi sereni in montagna nubi e schiarite con possibili piovaschi nel pomeriggio sulle coste parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti in montagna schiarite alternate a nubi sparse Previsioni per domani al mattino sulle coste nubi e schiarite con possibili piovaschi in montagna nubi e schiarite con possibili piovaschi Nel pomeriggio sulle coste, nubi e schiarite con possibili fiovaschi In montagna, nubi e schiarite con possibili fiovaschi Riprendiamo la nostra rassegna stampa dalla prima pagina del quotidiano del Sud L'apertura, chiamare il 118 Lucano, è una lotteria Il servizio di emergenza soffre della grave carenza di medici Malgrado bandi e stipendi più alti non si riescano a trovare professionisti per le ambulanze Poi l'emergenza coronavirus, la Basilicata sta meglio di tutti L'unica regione italiana che al momento non rischia la zona gialla E poi a potenza sì del CSM alle dimissioni del Presidente del Tribunale Scelta autonoma dalla vicenda disciplinare A Lago Negro estorsioni esplosive sulla Salerno Reggio Confermate le condanne tra le vittime Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Piro e poi la polemica La superauto blu contro il mal di schiena Leggeri del Movimento 5 Stelle denuncia L'ultimo acquisto dell'amministratore del Consorzio di Bonifica Musacchio Per gli spostamenti tra i cantieri forestali Userà una Alfa Selvio E dopo la prima pagina del quotidiano Qualche istante di pubblicità Poi ritorniamo in studio Per la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali Oggi in edicola La ITMSRL opera dal 1997 Su tutto il territorio nazionale ed internazionale Siamo specializzati nella progettazione e realizzazione chiave in mano Di capannoni struttura metallica Il legno lamellare, cemento armato Celle frigorifere ad uso industriale Assistenza post vendita qualificata Sopralloghi gratuiti Innovazione, tecnologia e lunga esperienza Per informazioni 392 02 08 806 A volte basta un gesto Per dare inizio ad una storia colori fatta di emozioni Scelte, fiducia Una storia che va costruita passo dopo passo Insieme a chi da oltre 40 anni Costruisce il futuro E non importa di quanti capitoli sarà Perché basta essere scritta con passione Curando ogni dettaglio Per dare vita ad un finale Che in realtà Sarà solo un nuovo inizio Con Pascale Arredamenti La tua comodità È in buone mani Siamo Ezio e Rocco Calciano E il nostro panificio pasticceria Ha ben 40 anni di attività Ogni nostro prodotto è realizzato Secondo una tradizione totalmente artigianale Priva di semi lavorati e conservanti Il punto di forza dei nostri prodotti È il lievito madre Rinfrescato 4 volte al giorno Ogni 4 ore garantisce morbidezza Fragranza, profumo E conservabilità del prodotto finale La nostra produzione comprende Panettoni, colombe, panvasotti e biscotti Calciano SRL E viale Regina Margherita 40 Tricarico E dopo la pubblicità Andiamo a vedere la prima pagina Del Corriere della Sera Il titolo di apertura Il vaccino dai 5 anni in su Arriva l'ok del lema per i bambini L'Italia sarà pronta Prima di Natale Terza dose per tutti i maggiorenni Dopo 150 giorni Trieste anticipe di vieti Super Green Pass Ecco le regole Andiamo avanti Questa è la prima pagina della Repubblica Che punta sul taglio dell'IRPEF Risparmi fino a 1000 euro Stessa apertura anche per la stampa Giù le tasse al centro medio L'IRPEF cala di 7 miliardi Libero Esclusivo Le simulazioni cambiano le tasse Ecco chi ci guadagna Il ministro Franco mette d'accordo i partiti Le aliquote IRPEF passano da 5 a 4 benefici Fino a 920 euro annui Da 15 mila euro di reddito In su IRA di Confindustria Il fatto quotidiano Governo in ritardo da 4 mesi Sui richiami Dove a partire a giugno Invece parlava di immunità Vaccinati scaduti Più dei Novax Il 10% allarmano i milioni di inoculati Non più coperti Il grosso dei contagi verrà di lì E Gimbedice servono 600 mila Tre dosi al giorno Ne facciamo 170 mila Il sole 24 ore L'apertura è dedicata al taglio dell'IRPEF Risparmi fino al 75% Andiamo a vedere anche Italia Oggi Che parla ovviamente di fisco Chi guadagna e chi no Risparmi di imposta fino a 920 euro Per un reddito di 50 mila euro Nella fascia da 35 mila a 45 mila euro Le minori imposte vanno da 470 a 770 euro l'anno La gazzetta dello sport Il momento d'oro dei due club Protagonisti in Italia e in Europa Si parla del Milan alla ricarica E dell'Inter che mira Concludiamo con la prima pagina del Corriere dello Sport Rischia tutto Juve La crisi in campo e in borsa per Agnelli Il momento più difficile domani contro l'Atalanta Allegri a meno 11 dalla vetta È obbligato a vincere E con la prima pagina del Corriere dello Sport Si chiude qui la nostra segna stampa Grazie per essere stati con noi E buona giornata Grazie per aver guardato il Corriere dello Sport